Eccoci qui, da Piazza Setra, tutti contro la videosezione, il salvatore del Blanche, insieme a Niki Giussino e come li andranno contro la videosezione, contro Green Hill, diciamo tutti no! Ricordiamo ovviamente che tutti i battattamenti, tutti gli abbandoni che si fanno non si devono fare, siate civili, perciò contro la videosezione diciamo no! Scendete tutti in campo! Anivali liberi! Anivali liberi! Anivali liberi! Per questo appello e per tutti quanti, social network, televisioni, ricordatevi, contro la videosezione diciamo tutti no! Ci sono tutti, da tutti io!